Il più cordiale e buon giovedì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Ritorna la notte nazionale del liceo classico. L'appuntamento è al liceo Manzoni di Caserta per domani 17 gennaio alle 19.30. Il tema sarà l'uomo e la natura, ieri e oggi. Una bella serata dedicata alle famiglie, gli allievi, i docenti e agli amici della cultura classica. Ad accogliere gli ospiti, la preside Adele Vairo. Patologie di genere, spunti e riflessioni per una mirata sorveglianza sanitaria. Sarà questo il tema del convegno in programma per sabato 25 gennaio nella sede dell'Ordine dei Medici di Caserta, di cui è presidente Maria Erminia Buttiglieri. Il corso formativo si svolgerà dalle 9 alle 14.30 ed è accreditato ECM. Il grande fotografo napoletano Fabio Donato sarà sabato 18 alle 19.30 nella sede della casa editrice Terre Blu a San Benedetto, con una mostra antologica e il suo libro d'artista. Titolo del volume e dell'evento è Palingenesi. Avete mai provato il fascino sonoro del violino del 1700? Domani al Museo Michelangelo di Caserta sarà possibile con il concerto Suonate e Galanti per violino a Napoli Madrid. Vincenzo Barallo, violino. Pietro Di Lorenzo, clavicembalo. Ingresso gratuito. Ad Averso, al Palazzo Cascella, sabato 18, l'appuntamento è a partire dalle 20.30, è con classico e spettacolo in versi e musica, con Riccardo Canessa e Francesca Curti. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.